Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi parleremo di Adobe After Effects in versione CS5. In questo tutorial vedremo come applicare gli effetti all'interno delle nostre composizioni. Prima di passare come di consueto all'interfaccia del programma però, vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito in questi mesi, siccome grazie a loro sono diventato da pochi giorni partner di YouTube. Una bella soddisfazione ovviamente, che però devo soprattutto a voi. Ok, detto questo, facciamo partire la sigla e ci trasferiamo sull'interfaccia del programma. Sigla! Ok, eccoci dunque sull'interfaccia iniziale di After Effects. Come abbiamo visto nel primo tutorial, clicchiamo su Nuova composizione. Scegliamo le dimensioni per la nostra composizione, in questo caso HD Ready, quindi 1280x720, perché il video che useremo come esempio ha risoluzioni HD Ready. E durata gli diamo 30 secondi, perché il video dura all'incirca 25 secondi. Colore di sfondo nero, anche se ovviamente possiamo sceglierlo. E alla fine diamo OK e si apre la nostra composizione. Facciamo doppio clic sull'area progetto, oppure clicchiamo su File, Sfoglia in Bridge, oppure Importa, per importare i file. Importiamo il video e per raggiungerlo alla composizione, o trascinandolo, tenendo premuto col tasto sinistro, lo mettiamo sulla timeline o lo inseriamo al centro. Lo lasciamo qui, come vediamo si adatta perfettamente, perché le dimensioni sono le stesse, sia della composizione sia del video. Con la rotellina del mouse si può andare avanti o indietro. E appunto vediamo adesso come applicare gli effetti. Possiamo prenderli da due parti diversi, o dal menu Effetto qui, dove vediamo che ci sono tutti gli effetti suddivisi per categorie, oppure da questo menu sulla destra, Effetti e predefiniti, dove anche qui abbiamo la suddivisione per categoria. Quindi, vabbè, andiamo sul, selezioniamo il video, andiamo su Effetto, ne scegliamo uno casuale, vediamo un pochettino, Distorsione, Effetto Sfera, per esempio, si apre il pannello Controllo Effetti qui in alto a sinistra, e vediamo l'Effetto Sfera appunto. Abbiamo due parametri, Raggio e Centro della Sfera. Allora, il Centro della Sfera, come possiamo vedere dal riguardo centrale, praticamente il Centro della Sfera è stato automaticamente inserito al centro del video. Se io vado ad ampliare il raggio della Sfera, vedo che, vedo l'effetto che in tempo reale viene applicato sul video. Prima di qui arriva fino a 250, però se noi vogliamo possiamo ulteriormente ingrandirlo. Più lo porto avanti, più la Sfera diventa grande, e quindi cambia l'effetto all'interno del video. Poi se lo riduco, ovviamente ottengo l'effetto inverso. Con l'altro parametro, Centro Sfera e questo pulsante, posso andare ad incidere io con un click su dove deve essere posizionato il centro della Sfera. Quindi in questo caso lo mettiamo qui e aumentiamo il raggio, vediamo che l'effetto parte da un punto differente, quindi di conseguenza il risultato finale sarà differente. Questo è un effetto molto semplice da applicare in quanto ha solo due impostazioni, due parametri con cui giostrare, e non presenta alterazioni particolari, a parte appunto l'effetto che abbiamo visto piccolino. Se andiamo a scegliere un altro effetto, per esempio andiamo su... qui abbiamo il Key Light, per chi non lo sapesse serve per fare il Green Screen, ovvero cambiare lo sfondo, anche se in questo caso non serve, che però facciamo la segnalazione incluso in After Effects CS 5.5. Andiamo sempre su Distorsione, perché sono effetti che si vedono molto velocemente, andiamo su Alterazione, il primo, vediamo che si apre il pannello Alterazione in automatico, sempre sulla sinistra. L'effetto Alterazione, come possiamo vedere, già presenta più parametri rispetto all'effetto Sfera, e presenta anche vari sottomenu, come l'abbiamo visto per giostrare con i parametri. Allora, possiamo scegliere lo stile dell'alterazione, in questo caso abbiamo visto in tempo real che è stato applicato automaticamente l'arco, e ne scegliamo un altro, per esempio onda, perché con l'arco abbiamo visto esce fuori dalla composizione il video. Otteniamo questo effetto, scegliamo la piega ovviamente, quindi come giostrare con l'onda, se andiamo sul segno positivo, l'onda viene inarcata verso destra, se andiamo sui numeri negativi, l'onda è inarcata verso sinistra. E poi ci sono anche questi altri parametri, Distorsione orizzontale, quindi da un lato rispetto che dall'altro, quindi numeri positivi, Distorsione verso destra, numeri negativi verso sinistra. E abbiamo anche Distorsione verticale, che storto molto ci dà lo stesso effetto, sempre giostrando tra i numeri positivi e i numeri negativi. Questo per quanto riguarda l'effetto onda, possiamo scegliere se l'asse di alterazione deve essere orizzontale o verticale, però ci sono come vediamo anche gli altri effetti, gli altri stili dell'alterazione. Diciamo che bisogna tenere in mente, sapere che ogni effetto presenta delle proprie impostazioni, quindi dei propri parametri. Quindi come abbiamo visto, per l'alterazione funziona in un certo modo, per l'effetto sfera funziona in un altro modo. Ne vediamo un ultimo, sempre per rendere l'idea. E vediamo un pochettino. Diamo correzione dei colori, per esempio. Si apre il panello della correzione dei colori, dobbiamo scegliere l'overflow, lasciamo Solarize, poi vabbè, dipende da cosa si deve fare, come al solito. E tramite queste manopole, vabbè, l'interfaccia si possono cambiare i colori, quindi ottenere la distorsione. In questo caso aumentiamo un pochettino il rosso, il green, il verde e il blu. E vediamo che, grossa alterazione sui colori principali non ce n'è, però verso dove c'è la luce, colori più chiari, vediamo che i colori tendono a schiarirsi molto di più, quindi a bruciare i pixel bianchi. Vediamo l'effetto, appunto, cliccando su Ripristina, che riporta tutto quanto a zero, vediamo la differenza. Come possiamo girarlo verso il rosso, per esempio, c'è anche, ovviamente, possiamo girarlo verso sinistra, quindi a numero negativo, otteniamo l'effetto inverso. Quindi in questo caso i neri diventano rossi, i colori scuri. Ovviamente, bisogna sempre vedere cosa bisogna fare, quindi si giostra con i vari strumenti che vengono messi a disposizione dal programma e si utilizzano in funzione del risultato che si vuole ottenere. E ovviamente la chiave per riuscire, come al solito, è sempre nel provare, riprovare, con i vari effetti. Per avere, vabbè, dopo che abbiamo finito di applicare i nostri effetti, per esempio, vabbè, mettiamo che voglio creare un, dare un effetto sfera, quindi niente di eccezionale. Posiziono la mia sfera, per esempio, qui, aumento il raggio, prendo solamente i primi tre ragazzi, inclusi nella composizione, e appunto vi do questo effetto, che può essere cambiato in tempo reale spostando il centro. Quando ho finito, renderizzo il video, con il pulsante qui a destra, anteprima RAM. E appunto, dopo la renderizzazione, vediamo che la barra verde si illumina, cioè esce questa barra verde appunto, che appunto sta a significare che la renderizzazione è andata a buon fine, quindi posso vedere nella mia anteprima il risultato. Poi per salvare, andiamo come al solito su file, esporta, e scegliamo il formato con cui vogliamo esportare. E se vogliamo, possiamo passarlo direttamente su Adobe Premiere Pro, per caso mai esportarlo, direttamente nei formati più comuni, direttamente da Premiere Pro, quindi un MP4, un MP1G. Ok, detto questo, il tutorial di oggi finisce qui. Come al solito, vi ribadisco, che se non avete capito qualcosa, ci sono delle domande, avete dei problemi, volete un consiglio, mi scrivete nei commenti, oppure, mi mandate un messaggio privato. Un saluto a tutti, e al prossimo tutorial. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti